Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, giovedì 13 agosto. La nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con la lettura delle prime pagine dei nostri quotidiani. Oggi presteremo ovviamente particolare attenzione a quanto accaduto ieri a Roma con una giornata sportivamente parlando drammatica per il Teramo Calcio. Questa richiesta della retrocessione in Serie D con 20 punti di penalizzazione formulata dalla Procura federale. Al termine di un'audienza durata oltre 16 ore, terminata questa notte. Ieri vi abbiamo proposto con le nostre dirette da Roma e con il nostro inviato Andrea Costantini diversi contributi che rivedremo anche questa mattina. Nella seconda parte di Mattino 6 ascoltando anche le interviste realizzate proprio all'una della scorsa notte dal nostro inviato Andrea Costantini, in particolare all'avvocato della Teramo Calcio, Edoardo Chiacchio. E' chiaro che c'è preoccupazione dopo quanto accaduto ieri richieste durissime da parte della Procura federale. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni prima dell'udienza, quella decisiva in cui verranno rese note anche le motivazioni, ancora di più in particolare proprio su queste richieste appunto dure, nei confronti durissime, nei confronti della società bianco-rossa. Allora andiamo però per ordine, apriamo con le prime pagine dei nostri giornali, partiamo dal centro edizione di Pescara per andare a vedere i titoli principali. Il religioso è sparito, c'è una speranza, Meggiugori è stato agganciato, infatti il segnale del telefonino di padre Cicarelli, questo religioso che lo scorso 2 agosto ha fatto perdere le sue tracce nella città della Bosnia, Erzegovina. E poi vedete la foto di centro pagina, ricorderete questa notizia, rimbalzata un po' su tutti i quotidiani, del ritrovamento a Pescara da parte di due dipendenti dell'attiva, di un mobiletto abbandonato vicino a un cassonetto dei rifiuti, con all'interno 7 mila euro questi soldi ritrovati da questi due dipendenti dell'attiva e consegnati ai responsabili della società. Ieri è stata premiata l'onestà di Katia e Giovanni con un riconoscimento dato ai due dipendenti dal comune di Pescara. Poi nelle cronache il killer del pasticcere, ieri vi avevamo dato la notizia del suicidio di Giovanni Grieco, è accusato dell'omicidio del pasticcere Gian Domenico Orlando, oggi parla la madre del 41enne che si è suicidato e dice il suicidio annunciato. Poi a Francavilla per un'altra notizia luttuosa muore in Camerun, il fratello dice è un delitto. E poi a Pescara ragazza picchiata dopo una notte di festa. E poi un'altra notizia di cronaca drammatica che arriva dalla Marsica, questa volta un drammatico incidente stradale, auto contro camion, tre morti, perdono la vita, due operai dell'A25 e la moglie del conducente di un'auto. Allora lasciamo l'edizione di Pescara del centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione invece di Chieti del quotidiano d'Abruzzo, l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, anche in questo caso per vedere i titoli di prima pagina proprio dell'edizione teatina. Del centro si apre con la cronaca, badante con un chilo di eroina, Vasto, droga nella cantina per oltre 100 mila euro, arrestata una 52enne. E poi Ortona e Vasto, donna e giovane in prognosi riservate a malori e imprudenza, in due rischiano di annegare. E poi ritroviamo la notizia dell'incidente con tre morti sull'autostrada ieri nei pressi di Avezzano. Poi le cronache, rogo sconsigliati gli ortaggi dei campi, si parla della discarica di Colle Sant'Antonio. E poi Chieti in strada addio, spettacoli e eventi di Biase dice ora si cambia. E a Schiavi d'Abruzzo un altro lutto, consigliere comunale stroncato da infarto. Poi vedete nello sport delle notizie di genere diverso. Visita a sorpresa a Lanciano, Gene Gnocchi si allena al biondi con i rossoneri e poi calcio scommesse. Troviamo la notizia di apertura che vi abbiamo dato in questa edizione di Mattino 6. Teramo shock, la procura chiede la Serie D partendo da meno 20. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro e passiamo proprio all'edizione di Teramo per andare a vedere in questo caso il titolo principale che neanche a dirlo riguarda ovviamente questa richiesta shock della procura federale Serie D a meno 20. Vedete la foto, il titolo a tutta pagina dell'edizione di Teramo del centro. richiesta shock Serie D a meno 20 contro il Teramo calcio. L'accusa federale si scopre di una severità sconcertante. Campitelli rischia 5 anni di stop di Nicola e di Giuseppe poco meno. Sentenza attesa per il 17. E poi vedete ci sono delle dichiarazioni. L'avvocato dice non ci sono prove assurdo massacrarci. Il presidente uno scandalo con il calcio. Io ho chiuso. E poi in as, parlando di cronaca, chiudono la comunità. Cellino, ordinanza del sindaco dopo l'ispezione dei carabinieri. E poi vedete altre notizie. L'addio alla maestra morta sul Gran Sasso e ragazza picchiata dopo la notte di festa. Si tratta di una rosetana di 27 anni. Chiudiamo con l'ultima edizione del centro, quella dell'Aquila, di Avezzano e Sulmona. Per vedere anche in questo caso cosa c'è nella prima pagina. In questo caso vedete siamo di nuovo alla cronaca perché il titolo principale riguarda questa ennesima tragedia. Della strada, auto contro camion, tre morti, Avezzano perdono la vita, due perai della 25 e la moglie del conducente. Vedete la foto drammatica, quel che rimane della macchina che è andata a urtare questo camioncino dove si trovavano gli operai dell'A25, dell'autostrada 25. Poi nelle cronache, caso Tancredi, ecco i segreti delle carte. A Sulmona palloncini e lacrime per Claudia, la ragazza di 31 anni che era morta domenica scorsa all'alba in un incidente. Poi all'Aquila il Comune anticipa i soldi alla Sinfonica e poi si torna a parlare dell'udienza di ieri, delle richieste della Procura federale. Perché questa è l'edizione del centro dell'Aquila e si parla dell'ex responsabile dell'area tecnica della società Rosso-Blu, Ercole Di Nicola. Chiesta squalifica record, meno uno all'Aquila per Savona Termo, ai Biancorossi, serie D e meno 20. Dunque questo è il titolo che riguarda l'Aquila e quanto accaduto ieri a Roma. Poi nella seconda parte, come detto, parleremo abbondantemente di quella che è stata una giornata davvero pesante sotto tutti i punti di vista per la Teramo Calcio che deve ora fare i conti con questa richiesta davvero pesante della Procura federale. Allora passiamo al messaggero per andare a vedere la prima pagina, poi daremo uno sguardo questa mattina più veloce del solito ai titoli delle pagine interne di carattere nazionale. Poi alle 7.20 l'appuntamento con il meteo. Nella seconda parte dedicheremo grande spazio proprio alla questione Teramo. Prima pagina del messaggero quotidiano di Roma che apre con l'economia. Il caso Cina affonda le borse, nuova svalutazione del Wuhan. Paura sui mercati, l'Europa brucia 227 miliardi. Giù il petrolio. Milano perde il 3%. Male, lusso e auto. Draghi pensa di allungare l'acquisto dei titoli di Stato. Poi Grecia, domani l'Eurogruppo urla al telefono tra Merkel e Tsipras. Berlino frena sull'intesa con Atene. Poi si parla dei migranti, la CEI contro il governo, Palazzo Chigi. Sono tutte falsità. I vescovi dicono esecutivo assente. La replica, non sanno di cosa parlano. E poi panico a Roma. L'ambasciata francese un pacco esplode in portineria. Sempre a Roma, 10.000 posti letto gestiti dalla Chiesa. Resort per turisti. Si parla ancora della questione migranti. E poi del mondo che verrà perché nel 2050 l'Africa avrà il doppio degli abitanti. E poi una notizia che riguarda il maltempo. Alluvione e fango. Paura in Calabria. Turisti evacuati. Andiamo avanti. Pagina 2 del messaggero. Migranti. L'attacco del Vaticano. Governo assente. Il PD dice inaccettabile in basso. Altri 600 sbarchi tra Sicilia e Calabria. Grecia. Atene manda i rinforzi a Kos. L'isola al confine con la Turchia che deve fare i conti in queste ore con l'arrivo di numerosi migranti. Pagina 3. Gelo di Palazzo Chigi. Falsità. Non sanno di cosa parlano. Palazzo Chigi risponde all'affondo della CEI della Conferenza Episcopale Italiana. Il vice ministro all'interno pubblico dice riscritto l'intero sistema di accoglienza. I sospetti di una ritorsione dei vescovi per il mancato intervento sull'Imu. E poi quei 10.000 posti letto gestiti dalla Chiesa sono risorti a 4 stelle per i turisti di Roma. C'è questa inchiesta del messaggero. Siamo a pagina 4. Ritroviamo il titolo, l'argomento dell'apertura del messaggero, quello che sta accadendo in Cina dove è stata raddoppiata la svalutazione. Le borse europee hanno accusato il colpo Milano giù del 2,9%. Le piazze europee bruciano 227 miliardi. Crolla il prezzo del petrolio. Il Fondo Monetario Internazionale dice bene la riforma. Effetto domino. In Asia e poi sotto c'è un'intervista a Fabrizio Viola, amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, che dice che lusso è moda, ora ne risentiranno, ma alla fine sono griff insostituibili. Pagina 5. Banca Centrale Europea, BCE avanti con l'acquisto di titoli per contrastare gli effetti negativi della mossa di Pechino. Siamo a pagina 7. Il grande risico delle monete. La decisione di Pechino può innescare la reazione degli Stati Uniti, che sono penalizzati i tassi di interesse, resteranno bassi ancora per lungo termine. Petrolio giù. La cosa positiva di quanto è accaduto a Pechino è il crollo, se così lo possiamo chiamare, del prezzo del petrolio. Siamo a pagina 8. Si parla di Europa. In questo caso lite e urla il telefono tra Tsipras e Merkel sugli aiuti alla Grecia. La Germania frena, no al sostegno triennale. Via libera soltanto ad un prestito ponte. Domani vertice straordinario dell'Eurogruppo. Poi in basso c'è un approfondimento, perché senza Varoufakis è tutto più facile. Bruxelles elogia il nuovo corso di Atene negli ambienti dell'Unione Europea. Nessuno rimpiange l'ex ministro greco che si era dimesso alcune settimane fa. Pagina 9 del messaggero. Manovra un miliardo a rischio sui giochi. Bloccata dal Consiglio di Stato. La gara da 700 milioni per il lotto. In bilico c'è anche la seconda rata della tassa sulle slot machine. In miglioramento il fabbisogno dello Stato nei conti pubblici registrato nel mese di giugno un avanzo di 12 miliardi di euro. Vedete nella foto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. I tassi sui bot toccano il minimo storico fino a 5 miliardi di risparmi sugli interessi. A fondo pagina l'intervista al vice ministro dell'economia Enrico Morando che dice ridurremo ancora il costo del lavoro ma il bonus del 2015 vada solo al sud. Siamo a pagina 10. Riforme. Renzi prepara l'ultimatum alla sinistra. Bersaniani in allarme. E poi Beppe, Silvio e compagni quando l'addio è più facile ad annunciarsi che a farsi. Pagina 11. Dichiarate fallite due imprese ogni ora. Quadro preoccupante dai dati della Guardia di Finanza. Denunce per bancarotta cresciute del 21% rispetto al 2014. Oltre alle chiusure dovute alla crisi si registra anche un'impennata dei reati fallimentari e delle insolvenze. E poi sciopero della sete interrotto. Marco Pannella beve in diretta. Brindo a Mattarella. Marco Pannella che due giorni fa era stato a Teramo. Proprio ieri vi avevamo proposto un'intervista realizzata dal nostro Alfredo Giovannozzi, proprio al leader radicale. Giustizia civile arretrati giù del 20%, ma le cause pendenti sono 4 milioni. E poi pagina 12. E-mail non trasparenti e crollo nei sondaggi. Hillary Clinton nei guai. Parliamo delle elezioni negli Stati Uniti perché tanti sono pronti a scendere in campo. Tra queste personalità di spicco c'è sicuramente Hillary Clinton, la candidata democratica, consegna la sua posta controversa all'FBI. Solo il 37% degli americani la giudica onesta e affidabile. E poi ISIS, primi raid americani dalle basi turche, colpite una serie di obiettivi in Siria. E poi andiamo in Spagna perché Barcellona sfida Madrid via i simboli della monarchia. La città catalana, guidata dalla giunta Podemos, comincia le ostilità contro i Borboni e pensa all'indipendenza. Poi pagina 13. Busta esplosiva all'ambasciata francese. Recapitato a Palazzo Farnese, sede della rappresentanza diplomatica transalpina a Roma. Un ordigno artigianale. Dentro una lettera, una piccola carica impiegata sotto sciocche per la fiammata. Le indagini seguono la pista dei gruppi anarchici. E' arrestato sulla spiaggia di Roma il boss della Camorra a Mendola. Duplice omicidio di Brescia. Si indaga sui debiti della coppia. Marito e moglie uccisi a Brescia. Titolari di una pizzeria. Una telecamera ha ripreso l'azione dei due killer. Sembra escluso che si tratti di vendetta da parte degli spacciatori. Pagina 14. Alluvione in Calabria. Straripano i torrenti. Città e spiagge distrutte. E poi a Messina l'ecstasy a Ilaria. Da una ragazza di 16 anni proseguono le indagini per far luce sulla morte di questa giovane. E sulla possibile e probabile assunzione di ecstasy. Siamo all'economia Exor. Primo azionista dell'Economist. Investiti 405 milioni per salire al 43,7% del settimanale economico inglese. L'operazione sarà chiusa entro l'anno in arrivo. Però una modifica dello statuto che limita il 20% i diritti di voto del singolo socio per garantire indipendenza. Dunque prosegue la scalata del gruppo Fiat al settimanale economico inglese. Ed Elcan è più forte in cassaforte. Ora si prepara al grande salto. Poi in basso Electrolux resta aperta anche per Ferragosto. I dipendenti si spaccano ma decidono di lavorare. Prima dell'inserto macro e prima delle altre pagine regionali. Noi passiamo al centro per vedere anche in questo caso le pagine interne. L'apertura però è dovuta sicuramente all'incidente di ieri sulla A25. Tragedia d'Avezzano, sangue sulla A25, auto contro camion, tre morti, due sono operai, automobilista, invade la corsia d'emergenza e tampone il mezzo in sosta. Perdono la vita sua moglie e due dipendenti marsicani di strada Parchi. È il terzo grave incidente dell'anno. Il ricordo della società. Validissimi collaboratori. Vedete poi anche a pagina 3 altri articoli su questa vicenda, su questa drammatica vicenda. E questo articolo, il duro lavoro per i custodi della sicurezza. Gli addetti autostradali in mezzo al traffico con la neve e con il sole per 1.500 euro al mese. Andiamo a pagina di cronaca nazionale e internazionale sempre dal centro. L'onda asiatica, la Cina svaluta ancora, borse giù. E poi vedete più in basso, a centro pagina, così Italia e Germania rischiano grosso. Sono più di 2.000 le nostre imprese a Pechino, i tedeschi tremano per l'impatto sulla Volkswagen. E poi pagina 5, la CEI striglia il governo, latitante sui migranti, Monsignor Galantino in difesa dei profughi, famiglia cristiana minimizza, esecutivo assente, Salvini, Grillo e Zaia, piazzisti, replica del PD, ingeneroso. E poi sbarchi a Pozzallo e Reggio Calabria, grappati ad un barile per ore, così sopravvivono i naufraghi. Andiamo ancora avanti, pagina 6, buona scuola. Il piano al via, prof il click day con la valigia, però ora ci sono i ricorsi. E poi pagina 7, si torna a parlare del maltempo, colpita soprattutto la Calabria, sepolta dal fango. Vediamo piogge e frane sulla costa Ionica, centinaia gli evacuati a Rossano, incubo per i turisti, mobilitato anche l'esercito. Vedete queste foto, soprattutto la prima, questa foto con queste auto completamente immerse nelle acque, di queste, dalla furia delle acque, proprio a Rossano Calabro. Davvero immagini incredibili su questa ondata di maltempo in Calabria. Pagina 8, l'addio Ilaria, era solo una bambina, messina a disperazione ai funerali della sedicenne, due indagati per spaccio. Il Papa, scusate, ritmi sregolati, uccidono i giovani. Dunque l'intervento anche del pontefice su questa vicenda, un po' sul problema droga tra i giovanissimi. Allora, prima di parlare di meteo, siamo alla pagina d'Abruzzo del centro, almeno diamo uno sguardo a qualche titolo, poi parleremo con il nostro Giovanni De Palma delle previsioni del tempo. Regioni, mal di pancia prima delle ferie, quel pasticciaccio del Consiglio d'agosto, cialente tutti a casa e poi fermarsi, è stata una necessità. Olivieri, Gerosolimo e Monticelli, tre ribelli, maggioranza a rischio, se si continua a non consultarci, fanno capire che potrebbero esserci dei problemi per la maggioranza. Tra qualche istante vedremo un servizio in merito proprio alla conferenza stampa che i tre ribelli della maggioranza hanno tenuto ieri a Pescara, ma sono le 7.20, dobbiamo dunque parlare di meteo con il nostro Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, mancano due giorni a ferragosto, questo weekend di riposo un po' per tutti, sabato e domenica. È tornato però un po' di caldo nella nostra regione, quella di ieri, è stata una giornata piuttosto calda, credo sia sulla costa che all'interno. Cosa ci dobbiamo attendere per le prossime ore? Sicuramente un ulteriore aumento delle temperature, Paolo, perché sulla nostra penisola la pressione in aumento, sarà in aumento nelle prossime ore, e nella giornata di domani, quindi assisteremo alla rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà non solo il tempo stabile su gran parte del territorio regionale, ma anche un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto nelle principali valli della nostra regione, in particolar modo sulla valle Peligna, ma anche sul versante orientale le temperature risulteranno abbondantemente di sopra dei 30 gradi, le temperature massime, tra i 33 e i 35 gradi raggiungeranno appunto nelle principali valli della nostra regione. Il caldo sarà ovviamente meno intenso lungo la fascia costiera, dove comunque le brezze un po' mitigheranno i valori, però favoriranno anche un aumento dei tassi di umidità. Questa situazione sarà temporanea, perché Paolo l'avevamo annunciato anche nei giorni scorsi, è prevista una graduale attenazione di questo promontorio di alta pressione a partire da domani, ma ancora più da Ferragosto, perché sono in arrivo delle correnti atlantiche che riusciranno ad entrare sul Mediterraneo e ad aggiungere la nostra penisola a partire proprio da Ferragosto, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. Ecco, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra, probabilmente, una prima parte della giornata di Ferragosto all'insegna del tempo tutto sommato discreto, anche se non mancheranno gli annuvolamenti, poi la tendenza è verso un graduale peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata, ma a mio avviso ancora più dal tardo pomeriggio in serata, a partire dalle zone interne montuose in estensione verso il settore orientale, con dei possibili rovesci temporaleschi poi in estensione verso il settore orientale. Ci sarà probabilmente anche un'attenuazione inottata della nuvolosità e dei fenomeni, poi però nella giornata di domenica arriverà la perturbazione atlantica, l'aria fresca che non solo favorirà una decisa diminuzione delle temperature rispetto ai valori che registreremo nelle prossime ore, ma determinerà comunque un peggioramento del tempo con dei rovesci e dei temporali piuttosto frequenti che interesseranno gran parte del territorio regionale. Inizialmente si formeranno sul settore occidentale, sulla Marsica, nell'Aquilano, ma poi con il passare delle ore questi temporali si estenderanno anche sul versante orientale e anche lungo la fascia costiera. Per un miglioramento dovremo attendere probabilmente la giornata di martedì perché insomma permarranno condizioni di instabilità, la nostra penisola continuerà ad essere comunque interessata da correnti atlantiche, quindi non ci sarà l'asta pressione e le temperature saranno tutto sommato in linea con le medie stagionali, quindi almeno questa sarà, chiamiamola una buona notizia, però insomma il tempo non sarà stabile almeno fino a martedì. Poi di questa situazione ovviamente ne riparleremo con maggiori dettagli nella giornata di domani, Paolo. Sì, Giovanni, prima di salutarci una domanda d'obbligo. E' questa la prima, quella che ci sarà tra qualche ora? E' questa la prima vera rottura per quanto riguarda l'estate? Si può dire che però l'estate non è finita, tornerà il bel tempo? Oppure questo cambiamento sarà un cambiamento del tempo sostanziale? No, no, diciamo che l'estate non è finita assolutamente, sono delle perturbazioni che in agosto ci possono stare, perché poi da questo momento inizia comunque a cambiare la situazione, lo si nota anche dall'illuminazione che diminuisce con il passare dei giorni, quindi aumenta la probabilità dell'arrivo di perturbazioni atlantiche. Un tempo, fino a qualche anno fa c'era la cosiddetta burrasca post-ferragosto che segnava la fine dell'estate, insomma. Però io in questo momento questa perturbazione in arrivo non credo che possa comunque essere chiamata rottura dell'estate. Certo, un'attenuazione del gran caldo che ci è interessato in maniera persistente nei 40-50 giorni da inizio giugno, da fine giugno, inizio luglio, però ecco, quindi questa sarà soltanto, mi avviso, comunque un'attenuazione di quella lunga ondata di caldo che ci è interessato, perché comunque il caldo potrebbe tornare a farci visita nelle prossime settimane, Paolo. Benissimo, io ringrazio Giovanni De Palma, grazie Giovanni, buon lavoro, con te ovviamente ci sentiremo domani, sempre nel corso di mattino 6 alle 7.20. Buon lavoro, buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Bene, ringraziamo Giovanni De Palma, ricordiamo il sito www.abruzzometeo.org dove potete trovare tutte le notizie, tutte le informazioni sul meteo, sul tempo, sull'evoluzione per la nostra regione, poi c'è anche la pagina Facebook che potete utilizzare come valido strumento anche per interagire con il nostro meteorologo. Chiudiamo la parentesi del tempo, torniamo alla lettura dei nostri quotidiani, vi dovevamo il servizio proprio sulla conferenza stampa di ieri che hanno tenuto a Pescara i cosiddetti ribelli della maggioranza al Consiglio regionale. Andiamo a vedere cosa hanno detto. Olivieri, questa mattina in conferenza stampa avete spiegato i motivi della vostra assenza ieri in Consiglio regionale, come Abruzzo Civico avete chiesto una maggiore considerazione al Presidente D'Arfonso. Assolutamente, considerazione che non ci è mai stata data, l'ho detto prima, forse credo di averlo accennato, non l'abbiamo avuto dal primo giorno che siamo stati eletti, non ci è stato dato quello che meritavamo. Io mi auguro che l'intelligenza di D'Alfonso possa prevalere perché ne ha da vendere e naturalmente chiamarci a miti, consigli e naturalmente incontri su tavoli nella trattazione di argomenti che ci interessano, perché a noi il territorio ci interessa, è il territorio di questa regione Abruzzo da dove veniamo. Basta appunto figli e figliastri, crediamo che tutte le manifestazioni di assoluto livello culturale vadano aiutate, finanziate, sponsorizzate, così come nel mondo del lavoro, le operazioni fatte tipo Abruzzo Engineering vadano ripetute come nel caso del Cotir, del CRAM, del ARIT, Mario Negri Sud e tante altre. L'assenza è dettata da tante situazioni che sono create in questi mesi, non è una scelta leggera, è sempre un momento di tensione all'interno che vive ognuno, anche all'interno della propria famiglia, perché sono due giorni che siamo in forte tensione, però è il momento di dire fermiamoci un attimo a ragionare, non ci piace questo metodo, ripeto il metodo di votare ogni qualvolta un provvedimento spot, fa bene a qualche volta qualche riflessione, non c'è nulla di rottura, noi siamo in maggioranza, non chiediamo nulla personalmente, io non ho bisogno di nulla, sono stato eletto e questo in base, e credo che questo metodo è da rivedere e non siamo solamente eletti per alzare la mano su provvedimenti che non hanno una natura di programmazione. Queste le dichiarazioni dei tre consiglieri della maggioranza, noi andiamo a vedere i titoli proprio anche su questo argomento dal messaggero Pagine Abruzzo, schianto in A25, tre morti, si parla dell'incidente ieri sull'autostrada, poi in alto ZTL a Pescara, migliaia di multe, lira dei residenti, per quanto riguarda proprio il servizio che abbiamo appena ascoltato, maggioranza pezzi, provincia ISA, slittano a settembre, manca il numero legale, Consiglio regionale sciolto a mezzanotte, Cialente, Fuoco Amico Sud Alfonso, la replica, ascolto gli scontenti, e poi ci sono gli appuntamenti dell'estate, Roccaraso Festa per il Santo, concerto gratis di Carboni, birra artigianale, tondino e olio, i tesori a tavola, dei colli, vestini. Noi ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo per la seconda parte di Mattino 6. Noi in studio, seconda parte di Mattino 6, torniamo al centro per vedere la seconda pagina che riguarda la cronaca regionale, contro le trivelle, concerti, raduni e dibattiti in piazza, in 5.000 Roseto, da dove sono state lanciate dure accuse al governo, da ieri quattro giorni di festival a San Vito e Mazzocca sollecita la proposta del referendum in alto, soldi a strade, beach games e alloggiate, riprovvedimenti della giunta regionale e seggiovia sul Gran Sasso, decisione rinviata. Poi in basso, col diretti, rimarca i rischi per le persone, cinghiali, emergenza e polemiche. Passiamo alle pagine della cronaca delle nostre province, partiamo da Pescara, l'omicidio del pasticcere, sapevo che mio figlio si sarebbe ammazzato, la madre di Grieco rompe il silenzio dopo il suicidio del figlio nel carcere di Teramo, mi aveva scritto, non potrò più difenderti, domani i funerali a Sant'Andrea. Andiamo avanti, pagina 14, il segnale del telefonino, speranza per il missionario, ieri la notizia della sparizione di questo missionario originario di Civitella a Casanova, polizia, cacciatori e l'elicottero dell'Euroforo sulle tracce di padre Luciano Cicarelli, il religioso originario di Civitella a Casanova, è scomparso da Maggiugori. Il 2 agosto, e poi pagina 15, cronaca sempre da Pescara, picchiata dopo una notte di festa, una 27enne aggredita in un appartamento di via del circuito da un giovane conosciuto sulla riviera, poi polizia ferroviaria, controlli in stazione a bordo di 10 treni, e poi sorvegliato speciale, guidava l'auto rubata, residenti in allarme, 5 falsi addetti Enel si aggirano nella zona dei colli di Pescara. Pagina 16, tutti al conservatorio, 420 aspiranti iscritti, ma la metà resta fuori. E poi in basso una notizia che riguarda un impegno di spesa del comune di Pescara di 38 mila euro, banchi, sedie e lavagne per 7 scuole elementari. E poi restaurato il palazzo di Viale Bovio, edificio storico in pieno centro a Pescara. Andiamo ancora avanti, pagina 17, due pesi e due misure, protestano gli ambulanti, il rivio dello sgombero delle bancarelle dei senegalesi scatena la polemica, il mercato sulla strada parco è stato sfrattato senza possibilità di mediazione, dicono gli ambulanti che partecipano proprio, che sono impegnati proprio nel mercato che si svolgeva una volta sulla strada parco a Pescara. Pagina 18, i concerti, la magia di Renga conquista il pubblico del teatro d'annunzio. E poi pagina 19, una targa per l'onestà ai dipendenti di Attiva, abbiamo visto qualche minuto fa proprio il titolo, questo argomento in prima pagina, premiati in comune gli operatori che hanno trovato 7 mila euro in un mobiletto. Nessuno ha ancora reclamato i soldi destinati tra un anno agli stessi spazzini. Pagina 20, mio fratello è stato ucciso in Camerun, un cinquantenne originario di Francavilla, morto in circostanze misteriose, la denuncia dei familiari in vacanza in Abruzzo. Siamo alla pagina di Montesilvano, azzerati i fondi per aiutare studenti e disoccupati, archiviata la proposta del Movimento 5 Stelle che aveva ricevuto l'adesione di diversi comuni. E poi giochi sulla spiaggia, grande vetrina per la città, dice il sindaco Maragno. E swing on the beach, si alza il sipario. E poi kung show in piazza, azzurra con rubio, manifestazioni estive anche a Montesilvano. Siamo alla pagina della provincia di Pescara. Bussi, ecco altri 5 milioni e 500 mila euro per le case terremotate. E poi a Penne, comune rosso, per gli espropri, il sindaco ribatte a Forza Italia. Vogliamo evitare il dissesto finanziario. A Torre dei Passi, l'aumento addizionale IRPEF, insorge la minoranza. Pagina di Chieti, un chilo di droga in cantina arrestata. Badante trovata con eroine e cocaina già confezionate, pronte alla vendita. Valore di mercato di oltre 100 mila euro. A Ortone e Basto, malori e imprudenze al mare. In due rischiano di annegare. E poi schiavi d'Abruzzo dopo il vice sindaco. Muore il consigliere, sciocchi in paese, infarto fatale. Per Fabio Falasca, 45 anni, sabato era deceduto Ernesto Fiorito di 49. Lutto dunque nel piccolo centro di schiavi d'Abruzzo. Andiamo avanti. L'Aquila, il Tribunale libera i polisini. Tancredi, obbligo di firma, i giudici del riesame. Le azioni estorsive, le minacce sono state ormai scoperte per l'ex assessore di Forza Italia. E tuttora attuale, in concreto, il pericolo di recidiva. Si parla dell'inchiesta sui puntellamenti. E poi palloncini e rose per l'addio a Claudia. Siamo a Sulmona, centinaia di persone ai funerali della giovane morta nell'incidente con lo scooter a Popoli domenica scorsa. Siamo alla pagina di Teramo. A Celino e Tanasio, controllo dei carabinieri, manca l'agibilità. Chiusa la comunità terapeutica dopo l'ispensione dei Nasse dell'Asli. Il sindaco ordina la sospensione. E poi, sempre in provincia di Teramo, in questo caso, a Roseto, ragazzino investito sul lungomare. Il 13enne stava attraversando. Ricoverato in ospedale per varie fratture. E poi, in alto, qualità dell'assistenza. Incontro con Paolucci, dei sindacati, per parlare di sanità. Prima di passare allo sport, abbiamo il messaggero e poi la città, perché quest'oggi ci concentreremo maggiormente proprio per parlare della vicenda Teramo. L'Aquila, Canoni e case map batosta per gli indigenti. Molti a giugno non hanno portato la documentazione per continuare a fruire degli affitti agevolati. File agli sportelli. E poi, sulle fontari, la regione rinvia il via libera. Progetto potenziamento aeroporto. L'assessore Iorio dice, i soldi ci sono. Variante Sud, si rischia l'incompiuta. Pagina ancora dell'Aquila. Puntellamenti, liberi tre indagati. Per Pierluigi Trancredice, l'obbligo di dimora e di firma. Soddisfazione dell'avvocato Dionisio. Accuse sconfessate. Ma i giudici puntano sul ruolo chiave dell'ex assessore. Spunta una telefonata ambigua del sindaco a Di Gregorio. In basso, Cantieri dell'Immaginario, si chiude questo appuntamento con Carla Fracci. Isa, il comune, stanzia 35 mila euro. Si parla della sinfonica abruzzese. E poi, sagre, musica e fotografia in città e nei paesi. Tanti gli appuntamenti, anche in provincia dell'Aquila. Nel weekend di Ferragosto, Avezzano sul Mona, tamponano furgone fermo. Tre morti sull'autostrada. Abbiamo parlato già di questo drammatico incidente avvenuto ieri sull'autostrada a 25 nei pressi di Avezzano. E poi a Sul Mona, di scariche abusive, nasce gruppo di lavoro. Sempre tornando da Avezzano, depuratore L'Arap denuncia il comune. E poi a Sul Mona, l'ultimo saluto a Claudia. Le indagini continuano per chiarire la morte di questa ragazza nell'incidente di Popoli. Siamo a Pescara, chiederemo i danni allo Stato. Il suicidio del killer non chiude il caso della morte del pasticcere. E poi ambulanti in rivolta, no al mercato degli abusivi. E Maggiugori, prete, scompare nel nulla. Padre Luciano Cicarelli, originario di Loreto e missionario in Peru. Palanga di multe, sempre a Pescara, per la ZTL violata. L'ira dei residenti, una famiglia ne ha collezionate 30. Un portiere di calcio, 22. Ferrara scrive al sindaco. Ne ho pagate 8, adesso basta. E poi un aiuto alle scuole, banchi e lavagne. Arrivano i soldi. E poi si torna a parlare anche dello sversamento di liquami nel mare di Pescara per la rottura della fogna. Legittimo l'uso dell'Oxistrong e la sostanza chimica scelta obbligata dopo il grave danno alla condotta. Su Facebook impazza lo scontro politico. Ne abbiamo parlato più volte nei nostri TG anche nella giornata di ieri. Andiamo ancora avanti. Pescara area metropolitana, quando chiese a TOT posso suonare con voi? Bepi D'Amato, clarinettista di fama mondiale, ricorda l'incontro della vita. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero, campo della villa inagibile. Muore il tempio del basket. Vandali e degrado hanno devastato la struttura. Affisso il divieto di accesso. Senza soldi deprivati, niente grandi eventi. Chieti ancora polemica per il caso Baskers e poi Camera di Commercio, un fondo anticrisi per le imprese. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona, città pulita, Mangifesta, guida il Blitz. L'ex campionessa di volley raduna un gruppo di amici e con loro ripulisce dai rifiuti la strada che porta al centro. Il video è già virale sui social. Consuelo Mangifesta dice ho voluto sensibilizzare sindaco e cittadinanza. Poi operazione della polizia a Vasto, eroina e cocaina in casa, romena in manette ed emergenza idrica, cupello a secco, sasi nella bufera. E poi ad Ortona, malora in mare, gravissima un'anziana, ragazzo rischia di annegare in piscina. E poi a Lanciano, estate, mastro giurato, senza soldi. Salta tutto, infine a Vasto è tutto pronto per un festival del cinema dell'Adriatico. Siamo alla pagina di Teramo, no è lucidi, abbattuti pini, ma ripianteremo altri alberi. Quattro fusti rimossi dagli operai, protesta in strada ed esposti in procura. E poi Ferragosto senza eventi, ma c'è chi resta aperto. E là Ricciteli senza soldi, c'è l'attacco di Tancredi. E poi volano i palloncini per l'addio alla maestra, la tragedia, i piccoli allievi e le colleghe di Natascia. Salvi al funerale della donna, morta sul Gran Sasso. Pagina di Giulianova, Roseto, Val Vibrata, che è notte magica sotto le stelle, 5.000 persone al porto per la serata Aperi Street. E la città riscopre un nuovo modo di vivere l'estate. Roseto oggi applaude Dante Francani dopo il successo ottenuto a Musi Cultura. e tornando a Giulianova, ma parlando di politica, Di Teodoro risponde alle accuse sulla Tari. Ancora notizie da Teramo e provincia. Sicurezza intensificati su tutto il litorale, i controlli contro lo spaccio di droga. E a Martinsicuro manca l'acqua, protesta di turisti e residenti. Siamo arrivati alle pagine dello sport e passiamo alla città di Teramo per andare a vedere anche in questo caso i titoli del quotidiano che tratta in maniera particolare proprio le vicende di Teramo e provincia. Ovviamente non poteva mangiare anche il titolo in prima pagina proprio sulla vicenda Teramo-Calcio. Procura accanita contro il Teramo. Retrocessione in serie D, 20 punti di penalità. Multa e squalifica quinquennale per Campitelli che dice vogliono farmi fuori dal calcio. Andiamo avanti. Il processo sportivo possiamo dunque aprire a questo punto il discorso relativo all'inchiesta di Irti Soccer. Il processo sportivo. La Procura ieri a Roma ha chiesto la retrocessione in serie D del Teramo con 20 punti di penalizzazione. Vedete alcune immagini realizzate ieri proprio nel corso dell'udienza sportiva. Noi con il nostro inviato Andrea Costantini a Roma vi abbiamo fatto seguire praticamente in diretta ieri per tutta la giornata in più finestre informative proprio quello che è accaduto ieri presso l'NH Hotel di Roma. Procura federale come abbiamo letto anche dai giornali a Canita nei confronti della Teramo Calcio. Andiamo a seguire il servizio di Andrea Costantini che ha ascoltato anche l'avvocato della società Biancorossa Edoardo Chiacchio. Il teorema accusatore come riferito è stato sgredolato e ritengo che non ci siano assolutamente gli estremi per condannare Campitelli e Teramo per la responsabilità diretta. Penso che più di questo non si poteva fare. Penso che in ogni caso per poter condannare una società o una retrocessione come ho detto nel corso del mio intervento è necessario che ci siano delle prove e non che tutto sia affidato ad indizi e a valutazioni fantasiose o ricostruzioni senza fondamento. Il bucato lei ha parlato di pistola d'acqua sostanzialmente. L'ho detto due volte perché ne sono oltre convinto. Qui siamo dinanzi ad una pistola d'acqua perché abbiamo dato noi le prove che Campitelli non è colpevole. Punto su punto. Nel resto mi pare incontestabile che non ci sono colciatori individuati. non ci sono momenti del pagamento individuato. Non si sa chi avrebbe percepito soldi. Non si sa come, dove e quando. Mi parlo che veramente, come ha detto Michele Gozzoni, siamo dinanzi al nulla. Sarebbe una grande ingiustizia se il Teramo non partecipasse al campionato di Serie B per la prossima stagione per questo fantomatico illecito. Io più che fiducioso mi attengo ai fatti. Il processo l'avete visto anche voi. È finito all'una e un quarto, uno e dieci. Avete sentito che noi abbiamo dimostrato che Campitelli non era responsabile. Ritengo che tutti gli altri non hanno dimostrato nulla. Solamente sono affidati a ipotesi e congetture. Ma con le ipotesi e congetture non si possono ottenere le retrocessioni delle società distruggendo i sogni delle città, delle regioni, delle province e dei grandi personaggi che fanno cullare sogni a intere cittadine. Ma Corda è lo stesso che ha escluso qualsiasi responsabilità di Campitelli. In quel caso, Corda non è più affidabile, non è più attendibile. Presidente, sono l'unio e dieci. Ho battuto il prego, se penso, come avvocato di discussioni. In sé di discussioni, innanzi a voi non ricordo mai che un legale ha protatto il suo intervento fino all'unio e dieci di notte. vorrei dire anche tante altre cose. Però penso che ho detto tutto. Qui parliamo di pistola d'acqua e con le pistole d'acqua non si possono condannare, non il pedano, ma non si può condannare nessuno. Grazie. Queste le dichiarazioni precedentemente, le dichiarazioni di Edoardo Chiacco, avvocato del Teramo. Abbiamo visto poi una parte della ringa difensiva del legale della società Biancorossa. Torniamo un attimo sulle pagine della città di Teramo per vedere altri titoli su questa vicenda. Campitelli scoraggiato hanno deciso, dice il patron Biancorosso, che devo smettere di fare calcio. e poi ancora avanti, ancora una pagina su questa vicenda, il Teramo trattato peggio del Catania. La Procura federale elogia la posizione dei rei confessi, ma non crede all'onestà dichiarata del patron Campitelli. Abbiamo ascoltato l'avvocato Chiacchio, proprio che ha parlato di queste richieste della Procura federale. Retrocessione in serie D e 20 punti di penalizzazione. Facciamo un passo indietro, andiamo a sentire nel prossimo servizio, nel concreto perché e come è arrivata questa richiesta così pesante per la società Biancorossa. Marghigiani Marco si richiede l'inibizione dello stesso per anni 4 e mesi 6 e l'ammenda di euro 70 mila. Per Cabeccia Marco si richiede la squalifica per mesi 6 e l'ammenda di euro 30 mila. Per Ceniccola Enrico si chiede l'inibizione per mesi 6 e l'ammenda di euro 30 mila. Per Campitelli Luciano si chiede l'inibizione per anni 5 unita alla preclusione e l'ammenda di euro 80 mila. Per Nini Corda c'è una posizione sicuramente particolare perché ritiene quest'ufficio che al signor Corda possano essere riconosciuti e applicati i benefici ricorrono ai presupposti e possono essere riconosciuti i benefici di quell'articolo 24 cioè della collaborazione. Per queste ragioni si chiede per il signor Corda previa applicazione dell'articolo 24 CGS cioè dell'istituto della collaborazione la squalifica per un anno e tre mesi. Per delle piane aldo si chiede l'inibizione per anni 5 più la preclusione e l'ammenda di euro 80 mila. Per Di Giuseppe Marcello si chiede l'inibizione per anni 4 e 6 mesi e l'ammenda di euro 70 mila. Per Di Lauro Fabio si chiede la squalifica per anni 2 e mesi 3 e l'ammenda di euro 40 mila. Per Di Nicola Ercole si chiede l'applicazione dell'inibizione per anni 4 e mesi 10 e l'ammenda di euro 85 mila. Per Matteini Davide si chiede la squalifica per anni 3 e mesi 6 e l'ammenda di euro 60 mila. Per Pesce Giuliano si chiede l'inibizione per anni 4 e mesi 6 e l'ammenda di euro 70 mila. Per quanto riguarda le società sportive la società L'Aquila Calcio correlata alla posizione del proprio tesserato di Nicola si chiede la penalizzazione di un punto in classifica sempre da scontare nella stagione sportiva 2015-2016 più l'ammenda per euro 40 mila. per la società Luparense San Paolo FC già atletico San Paolo Padova collegata alla posizione del tesserato Matteini si chiede la penalizzazione di un punto in classifica da scontare anch'esso nella stagione sportiva 2015-2016. Per la società Savona FBC SRL collegata alla posizione del suo legale rappresentante delle piane oltre che alla posizione del soggetto di quell'articolo 1,5 Barghigiani e ancora alla posizione tesseratica Beccia e Cenicola si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica ovviamente con riferimento alla stagione sportiva appena conclusasi 2014-2015 più l'applicazione di 10 punti di penalizzazione nel campionato di competenza della stagione sportiva successiva 2015-2016 in aggiunta un'ammenda di euro 30 mila. Infine con riferimento della società Teramo Calcio collegata alla posizione del legale rappresentante Campitelli e del tesserato di Giuseppe si chiede la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica e la stagione ovviamente sportiva appena conclusasi 2014-2015 più 20 punti di penalizzazione nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2015-2016 queste le richieste della procura federale noi andiamo a vedere proprio sulla vicenda Teramo anche i titoli oltre dopo aver visto quelli della città anche del centro e del messaggero ovviamente città sotto shock tifosi sotto shock partiamo dal centro sconcertante richiesta shock il Teramo in D partendo da meno 20 mano pesante della procura federale al processo sulla presunta Combin di Savona e quella di ieri è stata una giornata con una sala stampa piena per seguire questo processo giornalisti da mezza Italia e poi vedete in basso tifosi in subbuglio vergogna avete esagerato la piazza bianco-rossa si sfoga sui social network pioggia di sfotto dai sostenitori dell'Ascoli perché ieri erano presenti a Roma anche esponenti della società marchigiana chiacchio dove le prove Campitelli dice io ho chiuso il legale del Teramo è furioso non sono saltati fuori né soldi né giocatori corrotti il patron bianco-rosso nero in volto è uno scandalo vero basta con il calcio e poi in alto l'Adamelio litiga con Artico sono stati lesi i diritti della difesa niente stralcio per Di Nicola Dirti So che è rinviato ad oggi libera Damelio avvocato di Ercole Di Nicola andiamo ancora avanti tra qualche istante vedremo anche le altre pagine su questa vicenda del Teramo ovviamente oggi si attendono altre reazioni da parte della società bianco-rosso soprattutto anche della piazza vedremo cosa diranno ancora i tifosi tra l'altro a proposito di Teramo domani è in programma un amichevole alle 18 allo stadio Bonolis con il campo basso e lì potrebbero esserci ovviamente delle reazioni anche da parte dei tifosi allo stadio tifosi che sono ovviamente sconcertati e sotto shock siamo al messaggero per rivedere anche in questo caso i titoli che riguardano la vicenda Teramo una richiesta shock la procura federale vuole la retrocessione in serie D con l'aggiunta di una penalizzazione di 20 punti il conto dell'accusa 5 anni di inibizione per Campitelli e 4 anni e mezzo per il direttore sportivo di Giuseppe il presidente Campitelli dice hanno deciso di eliminarmi dal calcio e l'Aquila invece una ventata di ottimismo vediamo nel particolare è chiesto infatti un punto di penalizzazione ma il CREB potrebbe separare la propria posizione da quella di Ercole di Nicola vediamo anche altri titoli di sport Pescara Salamon adesso si può fare un accordo con la Sampdoria può essere trovato sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A e poi Emelo Virtus e rotture il club sceglie la linea dura il giocatore forza i tempi ieri non è andato ad allenarsi e poi Serie D Giulianova riprova con Di Pasquale Chieti pari per 2 a 2 contro il Ladispoli passiamo a vedere il centro per vedere scusate il gioco di parole gli altri titoli che riguardano altri sport altre squadre mercato dei Biancazzurri parliamo ovviamente del Pescara per l'attacco spunta Marilungo chieste informazioni all'Atalanta ma il preferito rimane Boacì avanti tutta per Biuchel si riapre la pista Cocco attaccante del Vicenza oggi test in famiglia in vista del Torino Pescara che vi ricordo giocherà domenica sera alle 21.15 in Coppa Italia a Torino e la primavera si rinforza ingaggiati Danzo e Minardi andiamo ancora avanti disertato l'allenamento Virtus Iemmello e Rottura l'attaccante non si presenta in città e non risponde alle telefonate della dirigenza la punta vuole tornare al Foggia verrà multato in arrivo Memeti ex del Palermo ieri Gene Gnocchi si è allenato con i Rossoneri dovete andare in Serie A detto il Comico andiamo ancora avanti si parla di calcio a 5 perché sono stati resi noti i calendari del massimo campionato primo derby alla sesta per le tre regine abruzzesi il calendario esordio esterno per Pescara e Montesilvano l'acqua e sapone intanto ingaggia burrito vi abbiamo dato la notizia nel corso del TG6 di ieri Bellarte sarà una stagione molto dura allora andiamo a vedere le gare della prima giornata del massimo campionato di calcio a 5 si partirà il 19 settembre questo il programma completo Acqua e sapone Montesilvano Napoli Asti Luparense Latina Real Rieti Cogianco Montesilvano Corigliano Caos Ferrara Lazio Pescara Riposa il Cosenza vedete come abbiamo letto anche dal titolo del centro alla sesta giornata il 24 ottobre il primo derby che vedrà di fronte Pescara e Montesilvano Montesilvano neopromosso in Serie A al ritorno della squadra del presidente Iervolino prima di chiudere dobbiamo tornare al quotidiano la città perché abbiamo visto i titoli dalla città che riguardano il terreno dobbiamo dare uno sguardo veloce anche agli altri titoli non di sport Abruzzo i consiglieri dissidenti vogliono contare di più Monticelli Oliveri e Gerosolimo spiegano lo strappo fare l'amministrazione non vuol dire solo alzare le mani abbiamo visto il servizio della prima parte della nostra rassegna stampa poi l'incidente autotravolge operai in A25 tre morti andiamo avanti inchiesta sui puntellamenti siamo all'Aquila i polisini tornano liberi il riesame dichiara nulle le misure cautelari verso gli imprenditori montoriesi l'intermediario romano e poi il caso Riccitelli di Sabattino e Bucchi comunque pro Cocciolito pagina 7 di Sabili rimandiamo tutto al 2016 d'Alberto del PD chiede di seguire l'esempio della regione di rivedere il tetto Ise a Villa Mosca l'ultimo saluto alla maestra morta sul Monte Prena pagina della provincia lette arrugginiti e muffa chiusa comunità di recupero in provincia di Teramo Blitz De Nas a Cellino a Tanasio pagina 9 siamo in Val Vibrata denunciati grossisti della contraffazione controlli della Guardia di Finanza a Tortoreto sequestrata merce falsa per un valore di 20.000 euro e poi sequesti di droga al Carnevale di Alba Adriatica a Martinsicuro aggressione dei Vucumpra il sindaco si reca dal prefetto pagina 10 siamo a Giulianova stoppa la pesca fino al 27 settembre scatta lunedì prossimo il fermo biologico per lo strascico cocaina in casa roma in manette poi in basso vedete si parla di politica da Arboretti valutazioni false sul bilancio comunale il capogruppo Lorenzo Di Teodoro risponde alle accuse del cittadino governante siamo a Roseto 5.000 in piazza per dire no alle trivelle grande partecipazione al maxiconcerto delle associazioni ambientaliste star della serata Eugenio Finardi a Pineto approvato il progetto contro il distesto idrogeologico il ragazzo investito sul lungomare ricoverato in ospedale pagina della cultura per chiudere esploriamo gli spazi con alchimie di forme e luci al festival di Arcevia le opere inedite del duo formato da Manuela Cappucci e Giustino Di Gregorio siamo giunti al termine così del nostro appuntamento di oggi con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo quest'oggi alle 14 come sempre il primo appuntamento con il TG6 con ulteriori approfondimenti e novità proprio sul caso Teramo è tutto grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti